Ieri ad Imperia è iniziato il Pedibus presso le scuole Natta di Largo Ghiglia e Belgrano di Castelvecchio. Partecipare a questo progetto è facile, soprattutto è sicuro e gratuito. Chiunque fosse interessato può presentarsi alle 8 nei punti di ritrovo, in Piazza De Amicis o alla stazione di Onedia per la scuola di Largo Ghiglia e alla Rotonda di Viale Europa per la scuola di Castelvecchio. I partecipanti, forniti di pettorina, saranno accompagnati a scuola puntuali in forma in totale sicurezza grazie alla presenza dei volontari preparati per questo compito. L'obiettivo del progetto, come ormai da anni, è quello di eliminare il traffico mattutino davanti alle scuole e poter indicare una strada educativa improntata alla salute e alle regole stradali. Per ogni informazione sulle modalità di iscrizione e sui percorsi, le famiglie possono rivolgersi direttamente alle insegnanti